Ok, oggi proviamo la scalpel sul 352, l'avete già visto sul canale più volte, siamo sempre con Ema. Ema Bocchio. È già seminato sul bunker. Polvere incredibile per essere il primo di febbraio. Su un sentiero che, diciamo, conosco già abbastanza bene, che lo faccio spesso. Ah, questo non l'ho mai fatto, però. Questo pezzo qua, bello. L'avevi fatto te questo? Questa parte qua? Ah, ok, io mai. Carina? Fischiettino. che figata ok possiamo spingere bene e ma vola come un pazzo ma che figata viscidino tanta roba sempre bello poi pulito così fa favore non 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 ma si fa molto fisica la situazione non 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 sempre non 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 Woohoo! Oh, che fatica! Questa non ho ancora avuto il coraggio di farlo, sto doppio lì. Sì. Woohoo! Torribido. madonna bello figata